Ma chi è che spacca le palle a quest'ora della notte? Spero che rimanga con la macchina questo pezzo di mare da stronzo. Spero che quando rimanga con la macchina viene inseguito nella foresta da sette lupi e farmellici con la rabbia. Spero diventi una gazzella e che la razza si estingua subito dopo.